Il piano è un grosso pianista Terribile E che si fa ascoltare la canzone che si chiama Non sono io Non sono io che abbiamo ascoltato prima, prego Non scriverò mille poesie Tu per esempio sei stato sempre attuato quando hai fatto dei film Beh sì Io sì perché basta che non ci sia gente io mi trovo a visaggio davanti al pubblico Ma cosa hai? Paura del pubblico? Non è che abbia paura, ho una certa diffidenza capisci Mi trovo bene insomma Ti abbrutti un po' come un gatto esatto Senti ma un gatto come si trova a cantare una canzone di fondere telecamere? Beh guarda insomma, non tanto bene